ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi sono qui perché finalmente mi sono laureato e questo video lo sto registrando prima della mia laurea perché volevo praticamente rendervi partecipi e condividere questo momento che finalmente dio mio dopo tre anni di peripezie si è realizzato per chi ha già visto il mio vlog scorso mi sono laureato in scienze motorie a urbino esattamente appunto il 17 febbraio cioè in realtà hanno fatto una specie di magheggio in cui la discussione della tesi me l'hanno fatta fare tipo mi ricordo il 6 febbraio e la proclamazione che ti dicono ciao tizio sei laureato ciao ecco la laurea che in realtà manco te la danno la devi pagare vaffanculo e basta praticamente quindi fanno con 50 persone questa cosa e due minuti loro hanno detto per una questione di tempo ma non so oggettivamente quanto tempo hanno risparmiato perché mi hanno costretto ad andare su due volte vaffanculo a loro che tra l'altro mi hanno pure chiamato stamattina la seretteria perché ci sono le mense no allora una volta mi è capitato di andare a mensa e lì poi fanno specie di debito tramite una carta quindi ho 5 euro debito mi hanno chiamato tramite due posti ieri e oggi per dirmi che devo ricaricare 5 euro perché hanno se no hanno problemi di farmi laureare ma ti rendi cazzo conto quanto cazzo sono poveri dio urbino di merda non me ne vogliate se c'è sta qualcuno che guarda questo video urbino ma cazzo siete troppo cari e troppo tirchi e spilorci vabbè al di là di questo è un passo importante che ovviamente non venire a qui nel senso che non è che uno si laurea finito di studiare ciao ciao libri do fuoco a tutto anzi la laurea dovrebbe tipo fare da tramite alla conoscenza nel senso che ti insegna a studiare e a studiare per sempre perché chi non studia è perso perché praticamente adesso basta pochissimo per sapere un po perché basta aprire internet scrivi che ne so quanti elefanti verdi esistono nel mondo e tu sai quanti elefanti verdi esistono nel mondo ma è proprio quella l'inculata perché le persone credono di sapere leggendo quattro pagine internet quando in realtà invece magari c'è una gente che ci studia 3 4 5 anni per quella cosa e si credono di sapere di più semplicemente perché su cazzo ne so sto cazzo punto net hanno detto che è così quindi ti vengono lì tutti fieri con la loro conoscenza da asilo nido e ti dicono che è così perché l'ho letto su sto cazzo punto net e comunque questa laurea è un festeggiamento più o meno provvisorio nel senso che continuo mi sono già pre iscritto alla magistrale quindi continuerò a fare la magistrale e quindi si prospettano altri due anni se mi sbrigo di altre università sempre a urbino con l'aspettativa di o cioè il top sarebbe andare a insegnare calzone fisica così chiunque non si cambi gli spacco la faccia con le mie mani e gli faccio fare 3.000 cili di campo con i cinze brutti pezzi di merda se non mi cambiate calzone fisica li uccido tutti oppure entrare nel ramo diciamo l'indirizzo che faccio di scienza motore magistrale si chiama rieducazione funzionale quindi se voi vi rompete un ginocchio subito dopo viene il fisioterapista e dopo il fisioterapista ci sono io che vi faccio il recupero muscolare ma la smetterò di fare le lezioncine e parlerò di altro più inerente youtube più inerente youtube quindi sono contento di come stia andando il canale in questi giorni perché questo youtube video tra l'altro non giorni ah se vi state chiedendo se sono io quel coglione lì dietro si sono io in una posa abbastanza oscena e quella si è una coperta rosa vabbè al di là delle cazzate comunque sono contento di come stia andando nel canale youtube del feedback che mi riuscite a dare perché ragioniamo sempre in termini molto piccoli noi però c'è rispetto ad altri però per me non sono piccoli perché fare più o meno 200 visualizzazioni a video su quasi tutti i video per me è un risultato altissimo perché è come se uno che c'ha un milione di iscritti facesse 600.000 visualizzazioni a video ma chi cazzo è nessuno fa 600.000 visualizzazioni a video con un milione di iscritti e quindi nonostante sia che la community di world warcraft non sia così numerosa però è comunque abbastanza attiva e io lo considero sinceramente migliore rispetto a moltissime altre come fosse quella di cod o di lol o di minecraft vabbè minecraft perché ci stanno quelli ai 9 anni quindi è ovvio che cazzo vuoi pretendere a quelli 9 anni una sega che vadano a sbraitare per non so sfiorare steppini ecco quello massimo poi fa e un'altra cosa che vorrei fare è di ringraziare di alcuni ragazzi come per esempio lorenzo pagiola che è sempre il primo a commentare sempre visualizzare i miei video e mi scrive ogni tanto magico 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 sempre lui anche sulle live lui già non c'è stato oppure moveds lui si è scritto così sui commenti quindi spero di aver detto cagate che mi commenta sempre grazie mille anche a te o di lilith black che è una ragazza che ultimamente mi sta commentando e ringrazio anche lei ma ovviamente non sto escludendo gli altri cioè tutti quelli che che mi commentano eccetera che mi scrivono li ringrazio sempre cioè anzi vi invito vi invito aggiungermi su butternet così giochiamo insieme cazzo così riesco a fare un po più video anche più carini perché mi piacerebbe fare qualche video magari con gli iscritti qualche arena qualche bg cose così quindi aggiungetemi cazzo detto questo con l'inizio nuovo semestre quindi inizierò subito io l'anno accademico della magistrale avrò forse un pelino meno tempo ma ce l'avrò lo stesso perché non prenderò a casa per le lezioni non riesco comunque a fare senza prendere casa e quindi mi compro ribisto a casa ciao e quindi riesco a comunque avere abbastanza tempo libero da dedicare anche a youtube a maggior ragione ho trovato ancora più tempo e più voglia perché appunto come ho annunciato in un vecchio video cioè non tanto vecchio mi sono comprato un monitor nuovo che se riesco a farvelo vedere questo è lui come potete vedere è gigantesco io avevo quello prima e cioè metti a fuoco brutta merda ecco più o meno si vede e guardate la differenza questo mio telefono mostro e quindi grazie a questo monitor praticamente ho fatto veramente la svolta nel senso che niente mi ha salvato la vita dalla noia perché non so anche guardare un film o giocare a warcraft o giocare a qualsiasi altro gioco con tutto questo spazio in 1080 quella merda lì 720 19 pollici quindi capita la differenza e quindi praticamente adesso la mia postazione è conclusa ho ordinato un tappetino perché questo è distrutto e guardate qui a forza di starci tipo a sfregare la tastiera o sfregarci il mouse si è consumato tutto e niente ho ordinato una logitech così faccio tutto il set completo perché io ho la tastiera in mouse e il tastiera in mouse e la logitech e anche la gamma quindi niente praticamente questo vlog vi ho detto qualche cosa così random però il fulco principale era dirvi che mi sono lavorato si e che sono contento di come stia andando il canale youtube quindi io vi ringrazio per questa visualizzazione come sempre e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao